Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Si sono da poco conclusi i festeggiamenti per il matrimonio più atteso del 2022. Quello tra Brooklyn Beckham e Nicole Peltz Invitata al matrimonio anche Kate Middleton, ovviamente, e il suo look era assolutamente pazzesco Gli occhi del mondo, quindi, lo scorso weekend sono stati concentrati sulla famiglia Beckham, dato che il figlio della coppia Victoria e David è da poco convolato a nozze con la sua storica fidanzata Nicole Peltz, figlia di uno degli americani più ricchi della nazione La lista degli invitati comprendeva anche l'arrivo di Kate Middleton e William, da sempre molto amici della coppia e che sono stati di gran lunga preferito agli ex duchi di Sussex Meghan e Harry, con molto clamore e rabbia da parte della famosa ex star di Hollywood Kate Middleton, regina. Della festa.Impossibile negare come tutte le attenzioni del mondo siano state concentrate sull'evento dell'anno che si è tenuto a Palm Beach nella tenuta della famiglia Peltz dove è stato organizzato un vero e proprio matrimonio da sogno, evento che sarà raccontato in esclusiva da Vogue Ricordiamo, infatti, che si tratta del primo evento mondano su scala mondiale atteso dalla stampa e non solo Dopo il matrimonio di Harry e Meghan e quello della famosissima imprenditrice digitale che il mondo invidia all'Italia, ovvero le nozze tra Fedez e Chiara Ferragni Il matrimonio tra Brooklyn Beckham e Nicole Peltz, dunque, ha attirato l'attenzione del mondo e molti personaggi noti hanno fatto di tutto per accaparrarsi un tavolo Compresi Harry e Meghan, anche se la scelta di Vittoria è ricaduta inevitabilmente sull'amica Kate Middleton La duchessa di Cambridge, quindi, ha subito riscosso un successo stratosferico grazie all'outfit scelto per l'occasione, diventando una vera e propria regina della festa L'abito pazzesco indossato da Kate Middleton.Come spiegato precedentemente, le cronache del matrimonio dell'anno in casa Beckham sono state affidate al magazine Vogue che ne ha curato l'esclusiva e che ben presto ne pubblicherà le immagini più belle Secondo alcuni rumors, dunque, a primeggiare è stata proprio la duchessa di Cambridge con indosso un abito da sogno, perfetto in ogni dettaglio e che ne ha messo in risalto la sua figura reale, come una vera e propria regina Un abito che, almeno per il momento, è celato dal mistero per permettere alla sposa Nicole di primeggiare su tutta la scena Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video